Perché un libro sull'acqua e perché il titolo Salvare l'acqua? Io direi che la prima risposta è perché l'acqua è in pericolo. E le ragioni sono abbastanza numerose. La prima ragione è che c'è una crisi mondiale dell'acqua, di cui siamo parte. Il Mediterraneo è uno degli epicenti di questa crisi dell'acqua. E questa crisi dell'acqua si sostanzia in alcuni dati forniti dalle stesse Nazioni Unite nel 2006. Entro il 2040 le Nazioni Unite ci dicono che il 50% della domanda di acqua che l'umanità farà rimarrà senza una risposta. E questo già la dice pesantemente su che tipo di crisi siamo di fronte. Il secondo ci dice che ci saranno nel mondo qualcosa come 300 milioni di profughi idrici che premeranno alle frontiere e determineranno gli sconvolgimenti politici del pianeta. Perché poi? Perché nel frattempo di fronte al venir meno della risorsa, al tendenziale esaurirsi di questa risorsa c'è qualcuno, dei grandi multinazionali, i grandi governi dei grandi paesi economicamente forti e militarmente forti che pensano di accappararsi l'acqua e farne una merce né più né meno come il petrolio e metterla sul mercato. Perché questo inizio di privatizzazione di un bene comune come l'acqua passa attraverso come primo atto la privatizzazione dei servizi pubblici locali, cioè le municipalizzate dell'acqua, gli acquedotti. E' il primo atto per arrivare poi a vendere l'acqua su scala planetaria anche. Vendere i fiumi, vendere i laghi, vendere i ghiacciai. In parte sta già avvenendo questa cosa, cioè farne proprio la mercificazione, petrolizzazione dell'acqua. Che questo determina scenari che cambieranno veramente la geografia della politica in questo mondo. E sarà una geografia nuova, quella degli accapparatori e quella che potranno accedere all'acqua perché hanno le risorse economiche per potervi accedere e la grande maggioranza che verrà esclusa e che diventerà fonte di conflitti pesantissimi. Se il petrolio ha prodotto dei conflitti, l'acqua ne produrrà molto, ma molto più forti e molto più feroci. Chi governa l'acqua governa la terra e governa gli uomini. In Italia chi governa l'acqua è abbastanza complesso da raccontare, per questo ci vuole un libro, non basta un articolo, non basta un'affermazione, una piccola conferenza. Intanto perché chi governa l'acqua governa la terra, per esempio i consorzi bonifiche li governano, governano gran parte della terra italiana e dell'acqua italiana e pochissimi italiani lo sanno, quasi l'80% del territorio. E governano anche un problema gravissimo nel nostro paese, il dissesto idrogeologico. Perché l'acqua non è soltanto aprire un rubinetto e scoprire un bene preziosissimo che diamo per scontato. L'acqua è anche fiumi, gestione del territorio, alluvioni, frane, risorse industriali, risorse energetiche. L'acqua sostanzialmente entra dappertutto nella nostra vita, entra in qualunque produzione umana, industriale. L'acqua è ovunque e chi governa l'acqua governa la nostra vita. In Italia, nel 2009, con una legge votata dal Parlamento e con un sostanziale accordo di tutte le forze politiche, di tutto lo schieramento politico, si è votata una legge, la prima legge che avviene in Europa, in cui si obbligano tutti gli enti locali, cioè tutti i sindaci, tutti i comuni, a mettere sul mercato i propri rubinetti. Per farla breve, entro il 31 dicembre 2011, tutti i rubinetti d'Italia saranno privatizzati. E non è che andranno a finire all'industria lotto del proprio paese, ma finiranno nelle mani di due grandi multinazionali francesi e di quattro potenti società per azioni italiane che tendono a diventare in futuro loro stesse delle multinazionali. Un cartello che ormai ha definito i termini per conquistare tutti i rubinetti e tutte le gare in cui si dovrà correre per acquisire l'acqua in ogni singolo paese. Ed è per questo sostanzialmente che noi abbiamo ragionato su chi governa veramente l'acqua in Italia, quella più legata ai cittadini, non soltanto l'acqua dell'agricoltura, ma quella piccola porzione d'acqua, diciamo circa tra il 10 e il 20% che viene considerata per gli usi umani. L'acqua viene governata ufficialmente da delle leggi dello Stato, poi le regioni hanno delle leggi ovviamente proprie e regionali, le province hanno una responsabilità ambientale e infine i comuni, le città hanno una responsabilità diretta per la gestione del servizio nei confronti del cittadino. Quello che oggi sta succedendo sostanzialmente è che c'è una grande bugia in corso sul fatto che esiste una privatizzazione dell'acqua che da molti anni, da fine degli anni 90 è stata portata in molti territori, la Toscana, la Sicilia, il Lazio, in moltissimi territori ed esistono invece ancora delle gestioni a carattere pubblico con società per azioni, cioè con aziende vere e proprie o addirittura ancora con i vecchi sistemi delle gestioni comunali. Quello che è successo in questi anni, lo dicono i numeri, i dati che riportiamo copiosi nel nostro libro, ma non soltanto numeri che produciamo noi, numeri ufficiali, numeri per esempio della Commissione sulla valutazione delle risorse idriche nazionali del governo, dicono che dove l'acqua è stata gestita, in sistemi misti pubblico privati o stata gestita dai privati, l'acqua non solo costa più cara, e questo è ovvio, ma gli investimenti sono minori, la capacità di produrre economie, risparmio, di difendere la risorsa, di fare sostenibilità è più bassa e quindi sostanzialmente l'acqua entra nel circuito di quello che può essere una normale merce, come un caffè, un giornale, un bicchiere di vino. Ecco, però l'acqua non è questa cosa e non può essere questa cosa, perché l'acqua per prima cosa è un diritto e senza di essere non si vive e poi sull'acqua si giocano moltissimi altri aspetti della nostra vita sociale, comunitaria, relazionale e appunto anche economica, quali aziende la usano, come la usa, chi la paga, chi la spreca e così via. Quindi noi sostanzialmente cosa vogliamo raccontare? Vogliamo raccontare che questa privatizzazione c'è, è avvenuta piano piano lentamente con governi centrodestra e governi centrosinistra e oggi siamo una svolta e la svolta si chiama Leggeronchi. L'Italia, ho detto, fa da battistrada con una legge che introduce il criterio dell'obbligatorietà, che è pesantissimo, che non c'è esempio, ma lo è in oltre in controtendenza a quello che sta succedendo in Europa. In Europa, a partire dalla Francia, che è la madre patria delle multinazionali che operano sul mercato internazionale, pensate che Suez, Lionesdezot e Veolia Vivandie controllano l'acqua di qualcosa come 130 paesi, sono presenti in 130 paesi a gestire i rubinetti di questi paesi. Ecco, la Francia sta facendo un'operazione a rovescio, cioè proprio dove era stata l'inizio della privatizzazione, la Francia, i comuni, in particolare il comune di Parigi, ma anche quello di Grenoble, di Lione e di altre situazioni francesi, stanno riprendendosi il proprio servizio idrico e lo rigestiscono pubblicamente con le loro municipalizzate, le vecchie municipalizzate, vengono rifatte in Francia. Il Belgio fa una legge che praticamente fa divieto, cioè fa l'operazione contraria, fa divieto a privatizzare i servizi idrici. Qualcosa di simile in termini di legge l'ha già fatta l'Olanda e dove l'acqua non è stata privatizzata. I paesi nordici, persino la Svizzera fa una legge in cui si dichiara che l'acqua è in monopolio di Stato e che per quanto è tale non può essere oggetto di mercificazione in nessuna forma, né nella proprietà né nella gestione. Noi potremmo suddividere la cartina della portiere dei rubinetti in Italia come se fosse una cartina geografica dove esistono alcuni grandi aziende come per esempio Acea di proprietà del Comune di Roma, ma soprattutto di Francesco Gaetano Caltagirone, il grande imprenditore dell'edile romano e dei giornali, del cemento, delle aree immobiliari, che Acea corrisponde più o meno al Lazio, alla Toscana, una parte della Campania, una sorta di Stato pontificio se vogliamo. Allo stesso modo a nord-ovest c'è un nuovo conglomerato fuso tra Iride, che era una società in origine dei comuni di Torino e Genova, ma che gestisce anche quella di Palermo, con Enia che era invece una multi-utility, cioè più servizi, acqua, energia, gas, rifiuti della provincia di Parma, Piacenza, che si sono fuse in IREN, un gruppo da 2,5 miliardi di Euro e che oggi è uno dei più importanti player, come si dice nel mercato. Allo stesso tempo c'è ERA, un'altra multi-utility dei comuni di Roma e di moltissimi altri comuni dell'Emilia e della Romagna, che è molto forte in borsa, un modello da public company SPA quotata in borsa a carattere pubblico, poi abbiamo il grande acquedotto pugliese a cui dedichiamo evidentemente gran parte delle nostre attenzioni per quanto riguarda la dimensione pubblica, il carrozzone di un tempo che sembra essere incredibilmente sulla via del risanamento, grazie all'Aggiunta Ventola e grazie all'attenzione degli amministratori capaci e grazie al lavoro di Riccardo Petrella che per primo ha aperto la strada e oggi in via di ripubblicizzazione, l'acquedotto più grande d'Europa e poi abbiamo tantissime altre realtà, non le citiamo tutte ovviamente, di aziende medie e intermedie. Questo potere dell'acqua sui rubinetti oggi per darvi un'idea potrebbe valere 8 miliardi di Euro, un potere enorme che verrà messo in gioco nei prossimi mesi attraverso la svendita delle proprietà dei comuni e quindi la perdita di controllo dei comuni sul loro capitale e poi sull'acqua e con un ritorno per le aziende non soltanto di acquisizione di servizi di distribuzione dell'acqua ma anche di servizi di fatturazione bollette, di integrazione con gli altri servizi eccetera. Perché non funziona questa cosa? Questa cosa non funziona perché lo dicono i numeri, i dati, lo dicono in gran parte del mondo e lo dicono anche purtroppo in Italia, guardate la Toscana, guardate Aprilia, guardate Latina, guardate la Sicilia, i numeri dicono che ai noi purtroppo non funziona, ma lo dicono un po' in tutto il mondo perché l'acqua è un monopolio naturale assoluto e sfugge alle regole del mercato classico, cioè accumula l'insieme dei fallimenti del mercato, su cui c'è una letteratura vastissima di premi Nobel, Stiglitz, Elinor Ostrom, insomma la letteratura è vasta e non si può far finta di niente, ma c'è una bugia superiore e la bugia superiore è che non si privatizza l'acqua ma si privatizza il servizio, cioè si dà al mercato la possibilità di essere efficiente. Perché questa è l'ambiguità su cui si gioca, i nostri detrattori, i nostri critici, i privatizzatori ci dicono ma noi non privatizziamo l'acqua, noi privatizziamo solo la gestione dell'acqua, però il cittadino accede ad un diritto che è l'acqua potabile perché questa sgorga da un rubinetto, non perché va a un fosso con il secchio a raccogliersi l'acqua e se la porta a casa, perché non è potabile e perché non è quello il diritto, il diritto è quel rubinetto che esce e quindi è la gestione che conta. Ecco, noi siamo di fronte a questa controtendenza italiana, per non parlare della controtendenza mondiale perché io vorrei ricordarlo, vorrei proprio che venisse che tutta l'America Latina che era stata privatizzata tornano indietro con movimenti poderosi che hanno cambiato la politica di quei paesi, hanno cambiato le costituzioni per introdurre nelle costituzioni che l'acqua è un bene comune che non si può mercificare, che non si può far profitti sull'acqua perché è legato alla vita degli individui, dipende la vita, deve essere garantita a tutti nel minimo indispensabile per vivere e questo va nel caso della Bolivia, dell'Uruguay, dell'Equador, ma io vorrei dire che il paradosso è che gli stessi Stati Uniti dove hanno potenti multinazionali che operano nel mondo, nel proprio paese tutti i rubinetti, tutti i servizi idrici sono ancora in mano ai municipi e quindi sono in mano pubblica e nessuno si sogna di fare una legge che obbliga il sindaco di New York o di Chicago a vendere la propria acqua, questa è un po' la dimensione, noi siamo di fronte a una classe politica, io temo che sia, che abbia perso la trebisonda, che abbia perso il senso della propria missione, che è quella di garantire l'interesse generale sui grandi bisogni, sulle grandi questioni come l'acqua, come il non inquinamento dell'aria, come la terra che non può essere venduta in continuazione agli immobiliaristi o alla speculazione edilizia, questo senso del territorio, dei beni comuni è stato perso e noi rimaniamo sorpresi e il libro vuole affrontare anche questo elemento della democrazia, che di fronte all'esproprio avvenuto sui sindaci, che gli tolgono il potere di determinare la gestione dell'acqua, che è l'elemento vitale, anche questo gli viene sottratto, non insorgono o pochi insorgono, qualche centinaio di sindaci sta insorgendo un po' per tutta l'Italia, ma le grosse situazioni sembrano non vedere che è anche contro di loro che viene fatta questa legge, perché a questo punto mi domando cosa fa un sindaco se è costretto a privatizzare tutto, qual è il suo ruolo, qual è la sua funzione, vendere il territorio, giocare in borsa per poter avere qualche, superire alla mancati finanziamenti, è una decadenza della democrazia che noi notiamo dietro l'acqua, è per questo che diciamo che l'acqua è la cartina di tornasole della democrazia, affrontare il problema dell'acqua pubblica significa affrontare il problema della democrazia, del ruolo degli enti locali, della partecipazione diretta dei cittadini alla gestione di un bene simile. Perché l'acqua non è privatizzabile, perché non lo è per nessuna cultura e nessuna religione fino adesso nella storia del mondo e poi anche per un motivo molto pratico, che di reti di distribuzione dell'acqua se ne fa una, non se ne fanno due, avete mai visto due reti di distribuzione dell'acqua in una città del mondo in concorrenza tra di loro? Non è possibile, quindi l'acqua è un monopolio e quindi la privatizzazione riguarda la distribuzione e la gestione delegata di questo monopolio, quindi è un monopolio dato in concessione dei privati. Quello che non funziona è proprio questo, nel senso che come ha dimostrato anche la Corte dei Conti, nelle privatizzazioni di questo tipo esiste un conflitto tra l'interesse del portatore del diritto, il cittadino, il comune che vorrebbe gestire le risorse, ma in maniera con gli investimenti, ma anche con il risparmio, con la coscienza dei cittadini, con un'attenzione alla difesa della risorsa e l'interesse finanziario e del profitto dell'azienda che ovviamente spera in più consumi, incapacità di aumentare le tariffe, cioè spera giustamente di farne un servizio di mercato. Questo conflitto, lo dice la Corte dei Conti, è arrivata a capirlo addirittura studiando i bilanci di queste aziende negli ultimi 10 anni, questo conflitto è insanabile e nell'acqua è una perdita, una perdita secca per i cittadini, ma soprattutto per la comunità intera. Quindi sostanzialmente noi cosa raccontiamo? Raccontiamo che in Italia, come in altri paesi del mondo, è tornato incredibilmente in un momento in cui i beni comuni, la terra, il cibo, la salute, l'acqua, l'aria, il diritto a essere informati, quello all'educazione, alla sanità, dove i beni comuni dovrebbero essere il cuore della cittadinanza e della politica, dove i cittadini devono tornare a occuparsi dei beni comuni e della politica, perché la politica nel senso i partiti da soli non ce la possono fare, dove i beni comuni rifondano la democrazia, noi in Italia torniamo proprio sull'acqua, il bene comune per eccellenza, torniamo a un paradosso, il paradosso è che alla fine dobbiamo rispondere a una domanda molto semplice, qual è il motore della società? I diritti, la comunità o il denaro? E soprattutto chi è che deve prendere parola per primo sul destino della comunità, sul destino della sua vita, delle sue risorse e del suo futuro? I cittadini o le aziende? Ecco l'acqua ci consegna questa domanda ed è venuto il tempo di prendere parola. In Italia contro la legge Ronchi, ma già in precedenza, è sorto un movimento molto forte, molto ramificato in quasi tutte le realtà italiane, in tutti i territori, ed è il movimento dell'acqua, è il forum dei movimenti dell'acqua. Ecco, proprio contro la legge Ronchi, la legge di privatizzazione degli rubinetti, come la chiamo io, questo movimento ha indetto un referendum per l'abrogazione della Ronchi e ha raccolto 1.400.000 firme. Non è mai successo una raccolta così poderosa di firme per qualsiasi referendum nel nostro paese, ma soprattutto non è un referendum e la gente che è venuta era gente che non era condotta per mano da nessun partito, non andava a rappresentare il richiamo e l'interesse di un partito, ma andava per l'interesse suo, capiva che era in gioco la vita che non poteva essere consegnata ad una multinazionale o alle banche o al gioco in borsa. Questo avevano capito, 1.400.000 firme, guardate che è il 4% dell'elettorato italiano, è un qualcosa di molto poderoso e che la politica dovrà fare i conti, dovrà svegliarsi dalla sbornia privatistica e fare i conti con questa realtà di cittadini.